scoordinato, non un fallo cattivo, giusta la punizione, non credo alla munizione Stracoscia sistema la barriera, in pratica tutta dentro il semicerchio davanti all'area di rigore sembra preoccupato Simone Inzaghi da questo calcio di punizione, impassibile invece venturato sull'altra panchina Chiaretti sul punto di battuta, Simone Inzaghi ha superato la propria area di competenza per fornire indicazioni anche Bartolomei pronto al tiro, conclusione violenta e palla in rete, il Cittadella va a bersaglio con Bartolomei al 41esimo, Lazio 3, Cittadella 1 e ancora proteste da parte dei difensori biancocelesti Mamma mia che gol ha fatto Bartolomei, ha piantato veramente un siluro di forza e precisione sotto il 7, grandissimo gol, complimenti E la gioia dei tifosi granata in curva, mentre qui rivediamo perfettamente la battuta Stracoscia ha battezzato che andava sopra la barriera, invece li ha calciato sul suo palo, anche lui si è fatto sorprendere Preso in controtempo il portiere albanese della Lazio